La grande trasformazione di Torino compie 20 anni, i luoghi della trasformazione saranno le tappe della grande caccia al tesoro di Urban Center, in bocca al lupo e vinca il migliore il primo premio del viaggio a New York. La grande trasformazione di Torino compie 20 anni, i luoghi della trasformazione di Torino compie 20 anni, i luoghi della trasformazione di Torino compie 20 anni, i luoghi della trasformazione l'ingotto stadio, il palco d'ora no 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 Ciao! Il tesoro è la mia città! Il tesoro è la mia città!